È un po' di tempo che soffro di disturbi nervosi, non so, mi dà fastidio il rumore delle bombe, il rantolo dei feriti e poi non riesco più a tagliare la gola al nemico. Ieri, per esempio, non so nemmeno se vale la pena di raccontarlo, ho trovato un occhio nella minestra. Beh, lei non ci crederà. E non l'ho mangiata. Sì, dica, dica. E poi ogni tanto mi ricordo del mio povero fratello e mi viene da piangere. Che cosa c'è di strano? Mai avuto fratelli? Non si preoccupi, noi adesso facciamo due chiacchiere tanto per inquadrare il problema. Dunque, il suo è un caso relativamente semplice. Per debellarlo noi useremo una terapia d'urto. Non vorrei darle troppo disturbo. No, si figuri. Lei adesso si rilassa e si affida al suo inconscio. Lei fa la prima cosa che le passa dalla testa di fare. Ti han fatto male? No, no, anzi, sto meglio. Eh, mi sono sfogato. F occhio Alright. tintazione è un'altra cosa mi otherda. Ma questa persona è perllare. Oh, è molto sfogato. E Piernia... Grazie.